Ciao a tutti e benvenuti su TokuRobot, canale dedicato all'animazione robotica fantascientifica giapponese e alle serie televisive di stampo Tokusatsu, Super Sentai e Kaiju. Oggi sono qui per presentarvi un'opera di Gonagai poco conosciuta che per anni ha imperversato tra gli appassionati del maestro ipotizzando che fosse una sorta di seguito della serie di UFO Robo Grandizer, Goldrake da noi per intenderci. Parliamo di Garla, Garura nella pronuncia ufficiale. Manga tra le opere minori del maestro Gonagai si è realizzato dall'aprile del 1976 al febbraio 1977 su TV Magazine e per l'editore Sun Comics in un unico volume. Perché questo manga viene ritenuto dagli appassionati come un potenziale seguito di Grandizer? La risposta è presto detta. Parliamo della trama, che in breve è la seguente ed è molto sintetica. Il protagonista della storia, Aiato Otori, un giorno sente improvvisamente una voce che ripete insistentemente la parola Garla e sulla fronte di Aiato appare un livido a forma di uccello che si collega alle sue sopracciglia. Da lì a poco appare un mostro dinosauro che è semina di istruzione che viene invocato da un popolo alieno nascosto nelle profondità marine della Terra, che arrivò sul nostro pianeta milioni di anni fa e che aveva la capacità di fondersi con i dinosauri. Aiato scopre di essere capace di diventare quindi il pilota del robot Big Ditan e ingaggia la battaglia contro il mostro. Ma il robot avrà la peggio permettendo però ad Aiato di salvarsi. L'aspetto del robot Big Ditan, il nome ha una forte assonanza con il Ditan 3 che uscirà due anni dopo, ha un aspetto che ricorda vagamente il Grandizer, ma ne aggiunge le forme di altri robot nagaiani come ad esempio Jig. Inoltre la fusione con il dinosauro meccanico ricorda vagamente quello che si vedrà nella Getter saga di Ishikawa con il robot Uzara. Il fatto è che però la storia sin dal suo inizio non ha nessun collegamento con quanto visto nell'anime di Grandizer e neppure nel manga. Quindi il collegamento è stato fatto sostanzialmente per l'aspetto del robot. Le fonti italiani e inglesi riferiscono che il manga doveva essere comunque un seguito effettivo della serie di Grandizer, ma a causa dei celebri dissidi con Toe Animation la storia venne modificata e non ebbe un finale. In verità su TV Magazine si evince che la storia era già strutturata in questo modo già dagli inizi e rimase incompiuta per volere di Nagai stesso. È un'opera di fantascienza di Nagai tra le tante comunque incompiute e forse una delle più deludenti dove c'è un po' troppa confusione e non si capisce effettivamente dove voglia andare a parare, condensando troppe idee senza un effettivo senso per poi lasciare tutto così in sospeso. È un progetto che poteva essere elaborato meglio secondo me senza troppe pretese di collegamento cronologico con opere passate e che sarebbe stato interessante comunque con una migliore gestione della storia che ricorda comunque troppi legami con opere del tempo, non riuscendo però a raggiungere l'obiettivo sperato. Che dire quindi? Spero che questo piccolo video curiosità vi sia piaciuto. Come sempre io vi invito a mettere un like se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale e a condividere e noi ci rivediamo ad un prossimo video qui su TalkRobot. Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti